Il valore Gatto, detto Toto, è sicuramente il nostro orgoglio di Galadone, 105 anni, forse sicuramente uno dei più anziani della provincia di Lecce e noi siamo orgogliosi di averlo nostro concittadino insieme a tanti centenari che ormai sono presenti nella nostra comunità. Quindi una giornata di festa, questa sera sono soprattutto i parenti, gli amici che lo festeggiano alla grande. Noi ci ritroviamo per me il terzo anno consecutivo, spero che possiamo incontrarlo e rincontrarlo nei prossimi anni ancora e che in questa festa si possa ritrovarci tutti come questa sera si stiamo ritrovando. Quindi un momento importante per la nostra comunità è che festeggiare una persona di 105 anni non è cosa di ogni giorno e quindi noi siamo contenti di poter stare vicino a lui questa sera per mostrargli la nostra solidarietà, la nostra amicizia e la nostra vicinanza. Faccio i miei auguri al nostro nonno Salvatore che questa sera compie 105 anni. Tanti auguri nonno! A Gatto Salvatore per i suoi 105 anni un abbraccio filiale per il suo 105esimo compleanno faremo tesoro della sua testimonianza di vita. Auguri! Vivissimi auguri per il cittadino più longevo della nostra galatone. Questa lisir di lunga vita ti accompagni per lungo tempo ancora e possa essere trasmessa alla nostra comunità quale auspicio di crescita, forza e vitalità. Tanti auguri! Grazie! 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti